Uso improprio del patrimonio aziendale per oltre un milione di euro, ritenute per 360 mila euro, emissioni di fatture relative ad operazioni inesistenti, è come se non bastasse omissione di versamento di imposte ritenute e bancarotta fraudolenta. Non si è fatto mancare proprio niente l'imprenditore di San Pietro Vernotico, che ora dovrà restituire il maltolto e al quale la Guardia di Finanza di Brindisi ha già sequestrato beni per oltre 360 mila euro, costituiti da conti bancari, automezzi e beni immobili. L'uomo è finito anche ai domiciliari. L'ordinanza è stata notificata proprio dai militari delle Fiamme Gialle. L'imprenditore è stato iscritto nel registro degli indagati proprio in seguito di una sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Brindisi sul conto di una società di San Pietro Vernotico operante nel settore della manutenzione e montaggi industriali. La società in questione aveva accumulato debiti tributari, previdenziali e assistenziali per oltre 2 milioni e 371 mila euro. Dalle indagini è quindi emerso che l'arrestato, con la complicità di altre tre persone, indagate a loro volta a piede libero, dopo aver accumulato debiti nei confronti dell'erario, aveva intenzionalmente portato al fallimento la società e costituito con l'aiuto di prestanome una nuova impresa, alla quale erano stati trasferiti alcuni beni del patrimonio societario per proseguire la stessa attività industriale indisturbato. Il tutto è però stato scoperto dalla Guardia di Finanza, che ha segnalato quanto rinvenuto all'autorità giudiziaria che ha disposto l'arresto e i sequestri.